Al via all'Università di Milano Bicocca, lei, un laboratorio di ecologia dell'informazione. L'evento inaugurale promosso dall'elettrice Giovanna Iannantuoni, che ha ricordato l'importanza dello studio alla base della comunicazione. A me piacerebbe molto che questo Ateneo si aprisse davvero una stagione, non solo per Bicocca, ma per tutti noi, in cui possiamo dialogare su tutti i temi in maniera rispettosa della struiobinione, ma soprattutto in maniera informata, perché ovviamente in un luogo di scienza come un Ateneo l'informazione, la formazione è davvero quello che ci attiene come governance. Il progetto, grazie a format sperimentali, proporrà appuntamenti con personalità del mondo della cultura, della politica, dell'economia e dell'informazione aperte alla cittadinanza, oltre che i laboratori e workshop, in cui studenti e dottorandi si cimenteranno insieme in un inedito esperimento formativo. L'Università di Milano Bicocca è molto sensibile ai temi dell'informazione e della comunicazione, un po' come tutti gli organismi istituzionali che svolgono un ruolo pubblico, quindi di formazione degli studenti e del territorio, della cittadinanza. Si parla di terza missione dell'università, che vuol dire proprio questo, l'università che si apre. L'obiettivo è quello di trasformare l'informazione in conoscenza, cioè non in qualche cosa che viene subito passivamente, ma creare dei laboratori, delle occasioni in cui si riflette intorno a tutte le notizie e le informazioni che appunto vengono passate dal mondo del giornalismo che fa comunicazione attraverso dare informazione.